È notizia di questi giorni che Firenze potrebbe volere le reliquie di Dante, ora custodite a Ravenna. Il sindaco Michele De Pascale sorride al momento su questa eventualità e guarda dritto alle celebrazioni nella città bizantina del settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta che avverranno nel 2021. I contatti istituzionali in questi mesi hanno riguardato la celebrazione del settimo centenario della morte di Dante che è chiaro che è per Ravenna dove la tomba di Dante, dove sono le spoglie di Dante, ha la sua sede principale ma vogliamo collaborare sia con Firenze che con Verona per un grande evento nazionale. La mia preoccupazione al di là delle querelle ferragostane di questi giorni è che in Italia non si sta dando la giusta attenzione al settimo centenario della morte di Dante, non è un appuntamento come tanti, è un anniversario importantissimo del padre della lingua italiana, di un grandissimo poeta e quindi anche questo dibattito ferragostano speriamo che porti a un'attenzione maggiore a livello nazionale su un grande evento culturale che deve avere l'impegno dello Stato che merita.